Buongiorno a tutti, sono Jacopo Zanzini e sono qui per raccontarvi i nostri nuovi salle scale elettrici modello Buddy e Buddy Lift, dedicati al trasporto su scale di carichi medio leggeri. Li abbiamo progettati per garantire sicurezza e facilità d'uso, perché anche con questo tipo di carichi è fondamentale non sottovalutare i rischi per l'operatore. Infatti, anche se sono carichi leggeri, quando vengono trasportati sulla scala basta un banale sbilanciamento per farsi male, anche in modo grave. Buddy e Buddy Lift usano la stessa tecnologia per fare le scale. Premendo i tre tasti di sinistra si ottiene il movimento dei cingoli, che passano dall'essere nella posizione zero, con i cingoli paralleli alla struttura, alla posizione intermedia, con i cingoli leggermente aperti, alla posizione finale, con i cingoli completamente aperti. Variando l'angolo dei cingoli è possibile salire le scale in due modi diversi. La modalità gradino per gradino, in cui solo due denti dei cingoli si aggrappano al gradino successivo, è adatta a ogni tipo di scala, incluse le scale liquidali e a piede d'oca. Questo tipo di movimento si presta al trasporto di carichi più compatti e leggeri, come bombole di ossigeno, scatole di cartone o cassette di frutta e verdura una sull'altra. Invece la modalità in appoggio su più gradini, in cui il carrello viene coricato sulla scala e i cingoli poggiano su almeno due gradini, è perfetta per carichi più pesanti e ingombranti, come mobili, frigoriferi, lavatrici. Buddy Lift, tra l'altro, ha un sistema incorporato di sollevamento elettrico del carico, che consente di spostare il baricentro del carico rispetto ai cingoli per ridurre lo sforzo fisico dell'operatore sulle scale. Oppure eseguire rotazioni su pianarottoli più stretti grazie ad una migliore inclinazione richiesta per tenere in equilibrio il carico. Buddy Lift è dotato di una funzione autocaricante, ovvero è in grado di salire sul furgone assieme al carico, che fa da contrapeso. Buddy e Buddy Lift, stabili su ogni scala grazie ai cingoli zonzini, possono essere caricati su furgoni alti fino a 60 centimetri, facendo poggiare i cingoli al cassone sia in salita che in discesa. Buddy e Buddy Lift, per trasportare carichi leggeri in modo semplice ma con la massima sicurezza.